La festa nella vita dell'uomo. In questo tempo presente, vissuto all'insegna della velocità, del profitto, del dinamismo, vi è ancora spazio per la festa? Oppure è considerato un tempo che non serve, inutile, una perdita di tempo? Un simile interrogativo forza la natura stessa dell'uomo. Difatti è nel suo essere di uomo lavorare, pensare, amare, cantare, danzare, pregare, giocare. Non possiamo negare che per noi uomini moderni, presi dal lavoro e dalla famiglia, dai viaggi in auto e in aereo, da incontri e conferenze, da notizie di giornale e televisione, la stessa esistenza si svuota della sua esistenzialità. In questo modo l'uomo farà progetti, ma non costruirà una felicità frutto di riflessione, di interiorità, che danno la giusta valutazione della vita. È opportuno tenere presente che l'uomo è stato creato per essere signore delle cose e non loro schiavo. Il terzo comandamento mira a rendere l'uomo libero da ogni scavitù, vivendo il giorno di festa come momento di elevazione verso Dio e di unione con i propri simili, senza distinzione di ruoli e di condizioni. Ricchi e poveri, padroni e servi, uomini e donne, tutti uguali, tutti liberati dal Signore, per stare gioiosamente davanti a Lui per dominare gli eventi della storia e orientare le cose create all'attuazione dei progetti di Dio. Più che i sindacati con gli sciopere e le sfilate per la rivendicazione dei diritti e del rispetto della persona umana, è stato Dio stesso a proporre un tempo libero da ogni forma di lavoro, affermando così la superiorità dell'uomo, facendogli pregustare nel giorno del Signore la grande festa che sarà nei cieli. tutti sono chiamati a questa grande festa della libertà, perché Dio è creatore e padre di tutti. Non fare lavoro alcuno né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue e né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né forestiero, che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Il giorno del Signore, la Pasqua è la festa per eccellenza in quanto esprime il compimento della nostra gioia in Cristo, vittorioso sul peccato e sulla morte. Il grande segno che permette oggi alla comunità dei credenti di fare la Pasqua con Cristo Gesù è intubbiamente l'Equaristia, memoriale della sua porte e della sua risurrezione, sacramento di pietà, vincolo di carità, convito pasquale. La Costituzione sulla liturgia ricorda che i fedeli che celebrano la domenica devono riunirsi in assemblea per ascoltare la parola di Dio e partecipare all'Equaristia e così fare memoria della passione e risurrezione della gloria del Signore nostro Gesù e rendere grazie a Dio che li ha rigenerati nella speranza viva per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Nel contempo non è concepibile celebrare la domenica senza la riunione cultuale della comunità. È assurdo celebrare la festa della redenzione da soli, isolati, lontani dalla comunità. La Pasqua è essenzialmente un avvenimento mondiale che esige una proclamazione pubblica solenne. E' chiaro che le celebrazioni devono mantenere in luce la caratteristica dell'unità anche nella diversità di coloro che la compongono, con un'opportuna distribuzione di compiti e di uffici, già che è fortemente negativo che i gruppi o delle persone gestiscono come cosa proprio il canto, il servizio, la proclamazione della parola, l'accoglienza.